È organizzata, molto precisa, un complesso abbastanza importante, che sia per le femminili ma anche il settore giovanile, quindi mi arriva una sensazione di professionalità molto alta. Un momento sicuramente dopo aver fatto quattro anni in Italia, dove forse sono cresciuta già tantissimo, dopo aver conosciuto anche la nazionale, quindi sicuramente un momento importante, con un'età importante, per poter fare qualcosa di più grande che quello che ho già fatto, quindi sicuramente un momento ottimo per tutte le due parti. Continua a crescere, però sicuramente trovare questa regolarità al top livello, che sicuramente mi sfugge ogni tanto e da quando sono arrivata in Italia, quindi trovare questa regolarità dentro le performance, andare a cercare, diciamo, grandi trofei comunque con questa società che ha già tanti trofei, quindi si possa aggiungere qualcosina in più per continuare a crescere insieme, lo farò con molto determinazione di piacere. Quando sentiamo Toma in Italia è la giocatrice veloce. Ok, è giocatrice veloce, però sicuramente è una giocatrice sicuramente che a lei gli piace giocare, sentire il gioco, stile di gioco, essere dominante, diciamo, sul campo, giocarsi su uno contro uno. Si possa aggiungere anche il tassello di diventare molto più pericolosa o diciamo molto più clinica davanti la porta, questo lo prendere ai volontieri, quindi diciamo veloce, a lei che gli piace giocare, sentire il gioco, partecipare al gioco e anche deve iniziare a diventare un po' più clinica davanti la porta. Allora sulle femminili possiamo dire che guardavo quando giocavo, ma gioco ancora, le sommere in Francia, c'è anche comunque Diani, c'è anche Cascarino che comunque sono giocatrice che ho visto e ho potuto conoscere che sono giocatrice con caratteristiche abbastanza importanti. Mi piaceva anche guardare giocare Marozani come giocatrice penso che di molto alto livello. Ho avuto l'opportunità di conoscere Aslani che è anche giocatrice molto importante, quindi diciamo questo tipo di giocatrice che a me mi piacere guardare durante diciamo le grandi competizioni europee o anche i mondiali che provo a prendere spunto per continuare a arricchire le mie caratteristiche.